Siamo alle 15 del 29 novembre 2016, un via vai di mezzi di soccorso e forze dell'ordine in via Lafarina direzione Molo-Norimberga, sirene all'impazzate piazzale delle navi Siremar della Caronte in turisti, isole minori, trasformate in uno scenario da fiction americana. Le prime informazioni non erano complete, si parlava di un incidente sul lavoro, dubbi sulla causa, poi i primi sviluppi marittimi, avevano respirato gas nocivi mentre erano impegnati in lavori di manutenzione della sentina, la parte più bassa dello scafo. La ricostruzione due ore dopo dei vigili del fuoco dava ulteriori notizie, soprattutto certe, confermate e si registravano vittime, la prima e poi altra, alcuni cadaveri sul piazzale, altri trasportati d'urgenza nei nosocomi, soccorsi, feriti gravi, usciti intossicati. Alla fine la conta dava tre vittime e due feriti molto gravi tra gli altri marittimi. Pare che uno di loro si sia sentito male durante l'intervento di pulizia della cisterna e gli altri siano andati a soccorrerlo, come lo stesso comandante Salvatore Virzi. Una tragedia legata al mare, al nostro porto, che segue quella del 15 gennaio 2007 del Segesta Jet, ma con dinamiche e modalità totalmente differenti e sono tornati giorni di pianto per Messina e giorni di dolore.